Stanchi di pulire in modo improprio i pavimenti? Fughe annerite? Sporco persistente? Pulisci fughe Madras? È la soluzione per la pulizia del gress porcellanato e dei pavimenti resistenti agli acidi. Acque dure, polvere da calpestio, detergenti impropri e lavaggi senza risciacquo spesso sono la causa di aloni e falsi lucidi. Questo avviene in particolare su pavimenti in gress porcellanato che per sua natura risulta essere un materiale durissimo ma con un'alta ritenzione di sporco dovuta alla sua superficie ricca di micropori. Pulisci fughe è il detergente acido che scioglie il calcare, le macchie di imbiancature e residui di posa riportando le piastrelle e le fughe al loro colore originale. Diluire e pulisci fughe nella proporzione di un litro in due litri di acqua fredda. Spargere la soluzione sul pavimento Frizionare con spazzolone, paglietta o macchina lavapavimenti Lasciare agire alcuni minuti e risciacquare.